Qual è il più difficile problema della matematica? Il più difficile? Quello proprio difficilissimo! Mettetevi comodi, rilassatevi, perché oggi faremo un viaggio incredibile. Tenteremo di penetrare l'infinito. Niente meno! Affronteremo il più singolare fra tutti i problemi della matematica. Un problema che è facilissimo, ma che è anche difficilissimo. Ma come? Sì, facilissimo e difficilissimo. Un vero problema stro... Questo problema ha un nome, come tutte le cose importanti in matematica. Sto parlando della congettura di Kollatz. Una congettura davvero s*****a! Ora vi faccio vedere. Così vi rendete conto anche voi. Prendiamo un numero a caso, ad esempio il 5. Dobbiamo rispettare solo due regole, due regoline, semplici semplici. Regola numero 1. Se il numero è pari, dividi per 2. Abbiamo scelto il numero 5 e non è pari, quindi non possiamo applicare questa regola. Regola numero 2. Se il numero è dispari, sì, 5 è dispari, ce l'abbiamo. Allora moltiplicalo per 3 e aggiungi 1. Perfetto! Quindi prendo il numero 5, lo moltiplico per 3, ottengo 15. Ora aggiungo 1 e ottengo 16. Perfetto! Ora 16 è un numero pari. Posso applicare la regola numero 1. Divido per 2 e ottengo 8. Benissimo, 8 è ancora un numero pari. Riapplico la regola numero 1, divido per 2 e ottengo 4. 4 è pari, divido per 2, ottengo 2. 2 è pari, divido per 2, ottengo 1. Fermi qui! Siamo partiti dal numero 5 e applicando queste due semplici regole siamo arrivati al numero 1. Non vi sembra strano? Proviamo con un altro numero. Abbiamo capito, no? Le regole sono semplici. Se il numero è pari, dividiamo per 2. Se il numero è dispari, moltiplichiamo per 3 ed aggiungiamo 1. Proviamo con il numero 3. Il numero 3 è dispari. Bene, moltiplichiamo per 3, ottengo 9 e aggiungiamo 1 e otteniamo 10. 10 è un numero pari, quindi dividiamo per 2 e ottengo 5. Oh, 5 è il numero di prima e applicando queste due semplici regole sappiamo già dove andiamo a finire. Dritti al numero 1. No, aspettate! Ma è incredibile! Cioè, io prendo un numero a caso, applico queste due semplici regole ed ottengo alla fine sempre 1. Non ci posso credere. Abbiate pazienza. Fatemi provare con un altro numero. Dai! Voglio provare con un numero grande. 168. Allora, 168 è un numero pari, quindi divido per 2. Ottengo 84. 84 è ancora un numero pari. Dividiamo per 2. Ottengo 42. 42 è pari, divido 21. 21 è un numero dispari, quindi moltiplico per 3 ed aggiungo 1. Ottengo 64. 64 è pari. Divido per 2. 32 pari, divido 16. Pari, divido 8. Ho 8 come prima e sappiamo già che l'8 ci porterà dritti dritti in picchiata al numero 1. 4, 2, 1. No. Siamo finiti di nuovo al numero 1. Provateci, scegliete un numero qualsiasi, il più strano che vi venga in mente, e applicate queste due semplici regole. Quando il numero è pari, dividete per 2. Quando il numero è dispari, moltiplicate per 3 ed aggiungete 1. Vi garantisco che alla fine otterrete sempre il numero 1. Allora, no, viene spontaneo pensare che ciò sia vero per tutti i numeri interi. Tutti. Immaginabili e inimmaginabili. L'avete pensato anche voi, scommetto. Sarà vero? Sembra proprio di sì. Lo abbiamo visto anche graficamente. Man mano si formano dei rami, che convergono verso un unico tronco, che ha per radice il numero 1. Sì, sembra proprio così. Un momento. Chi mi dice che sia sempre così? I numeri che posso scegliere, da cui partire, sono tanti. Che dico tanti? Sono infiniti. Non finiscono mai. Potrei incominciare adesso, provare un numero al minuto, per i prossimi 60 anni. Ma così facendo, non avrei provato che una minima, piccolissima parte, di tutti gli infiniti numeri possibili. Chi mi dice che prima o poi salterà fuori qualche numero, per il quale applicando queste due semplici regole, non si vada mai a finire al numero 1? Chi me lo dice? Sapete qual è la verità? I matematici non si fidano degli esperimenti. No, no. I matematici hanno paura di fare la fine del tacchino induttivista. C'era una volta un tacchino, che si mise ad osservare e dedurre. Così, per distinguersi, iniziò ad osservare e dedurre. Osservò che tutte le mattine alle 9 arrivava il cibo. Bene, posso dedurre che il cibo arrivi puntuale ogni mattina alle 9. Ma il nostro tacchino non trasse conclusioni affrettate, no, no. Mise alla prova la sua ipotesi. Continuò ad osservare. Osservò che quando pioveva il cibo arrivava la mattina alle 9. Quando c'era il sole, il cibo arrivava puntuale la mattina alle 9. Quando faceva freddo, il cibo arrivava alle 9. Quando faceva caldo, il cibo sempre puntuale, arrivava alle 9 ogni mattina. Il mercoledì il cibo arrivava alle 9 e il giovedì, puntuale come un delivery svizzero, il cibo arrivava alle 9 in punto. Dopo quasi un anno di fitte osservazioni, il tacchino, sicuro di sé, affermò il cibo arriva tutte le mattine puntuale alle 9. Peccato che il giorno dopo era la vigilia di Natale e la mattina alle 9 in punto, anziché il cibo, arrivò il macellaio. Questa storia ci insegna che se tutte le volte che proviamo con un numero e applichiamo queste due semplici regole arriviamo al numero 1, non è detto che ciò sia vero sempre. Gli esperimenti non bastano. Bisogna dimostrare la verità di un'affermazione con il rigore della logica e bisogna dimostrarlo per tutti gli infiniti numeri. Il primo a formulare questa ipotesi, cioè che se applichiamo queste due regole prima o poi finiremo sempre al numero 1, è stato Lothar Kollatz nel 1930. Ed allora questo problema è noto come congettura di Kollatz. Sono passati più di 90 anni ormai ma nessuno è riuscito a dimostrare che questa ipotesi sia vera. O sia falsa. Nessuno! E ci hanno provato le più grandi intelligenze del pianeta. Ci ha provato Terence Tao, considerato l'uomo più intelligente attualmente vivente. E ci ha provato persino Paul Erdos, il più grande matematico del Novecento, capace di pubblicare più di 1500 articoli e di risolvere problemi difficilissimi. Ma dinanzi a questo problema ha dovuto chinare il capo, affermando la matematica non è ancora pronta per sfide del genere. E aveva ragione. Eppure, sembra un problema così semplice, così innocuo. Prendiamo un numero. Se è pari lo dividiamo per due, se è dispari lo moltiplichiamo per tre ed aggiungiamo uno. Prima o poi finiremo sempre al numero uno. Più semplice di così. Ve l'avevo detto che era un problema... Oh, c'è la censura. Stron... Sì, mi censurano proprio. Stron... 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 Ma com'è possibile che sia così difficile dimostrare che prima o poi si finirà il numero uno? È così difficile perché dobbiamo fare i conti con l'infinito. Che cos'è l'infinito? Prendiamo i numeri, disponiamoli su una linea. Qual è l'infinito? Il più grande numero che riusciamo a pensare? Oppure il numero che viene dopo il più grande numero che riusciamo a pensare? Non esattamente. E se l'infinito fosse reale? L'universo potrebbe avere dimensione infinita. Potrebbe essere piatto ed espandersi per sempre. Questo è più vicino a ciò che l'infinito in realtà è. L'infinito è una dimensione. Non è il più grande numero che riusciamo a pensare. L'infinito è una misura. Quando abbiamo a che fare con l'infinito tutte le nostre certezze d'un tratto crollano. Occorre un nuovo modo di pensare. Il famoso Hotel Gilbert ci aiuterà a capire meglio come vanno le cose quando si ha a che fare con l'infinito. La caratteristica particolare di questo hotel oltre ad avere Hilbert in reception è quella di avere infinite stanze. Un turista all'improvviso chiama per prenotare una stanza. Tutte le stanze però sono occupate. Ma il nostro receptionist d'eccezione risolve subito il problema. Chiede a ciascun ospite se gentilmente può spostarsi nella stanza a fianco. Anche se le stanze sono tutte occupate questo è possibile perché le stanze sono infinite. Così ora la prima stanza è libera ed il turista avrà posto per alloggiare. Dopo un po' arriva un intero autobus pieno zeppo di turisti. Bene ora abbiamo due problemi. Uno l'hotel è tutto pieno. Due i turisti arrivati sono infiniti. Per fortuna alla reception c'è Hilbert. Hilbert chiede a ciascun ospite se gentilmente può spostarsi nella stanza che è il numero doppio rispetto alla propria. Chi è nella stanza 1 dovrà spostarsi nella stanza 2 chi è nella stanza 2 dovrà spostarsi nella stanza 4 chi è nella stanza 3 dovrà spostarsi nella stanza 6 e così via. Tutti si sposteranno in una stanza dal numero pari. Voilà d'un tratto tutte le stanze dispari sono libere e i numeri dispari sono infiniti così come infiniti sono i numeri pari. Ecco fatto un intero gruppo di infiniti turisti ha trovato alloggio in questo hotel. Dopo un po' arrivano infiniti autobus contenenti infiniti turisti. Che serata movimentata. Ed ora nessun problema alla reception c'è Hilbert Hilbert chiede a ciascun ospite se gentilmente come prima può spostarsi nella stanza che è il numero doppio rispetto alla propria e così tutti si spostano nelle stanze dal numero pari lasciando libere tutte le stanze dispari. Sì ma ora abbiamo infiniti pullman pieni di infiniti turisti calma gli infiniti turisti del primo autobus li sistemiamo così li mettiamo nelle stanze potenze di 3 cioè il primo turista del primo autobus lo mettiamo nella stanza numero 3 il secondo turista del primo autobus lo metteremo nella stanza 3 al quadrato cioè 9 il terzo turista del primo autobus lo metteremo nella stanza 3 al cubo cioè 27 e così via il primo pullman è sistemato tutte le infinite potenze di 3 sono state occupate ora sistemeremo i turisti del secondo autobus nelle potenze di 5 quindi il primo turista del secondo autobus lo metteremo nella stanza numero 5 il secondo turista del secondo autobus lo metteremo nella stanza 5 al quadrato 25 e così via il secondo pullman lo sistemeremo nelle stanze potenze di 5 avete capito come continuare i turisti del terzo autobus li sistemeremo nelle potenze di 7 i turisti del quarto autobus li sistemeremo nelle potenze di 11 ogni infinito gruppo andrà ad occupare tutte le potenze del numero primo successivo i numeri primi sono infiniti e voilà abbiamo sistemato infiniti pullman contenenti infiniti turisti quando tutto sembrava fantasticamente sistemato accade l'incredibile arriva un autobus pieno zeppo di turisti sembrano infiniti come prima ma hanno qualcosa di strano questa volta ogni turista ha un nome composto da infinite lettere hilbert è disperato come disperato abbiamo infinite stanze siamo riusciti a sistemare infiniti turisti di infiniti autobus sì ma questa volta non c'è posto per tutti no aspetta non ci credo e sì perché prendi il primo turista mettiamolo nella prima stanza poi il secondo nella seconda stanza e così via resta fuori un ospite ma come è possibile chi resta fuori vedi lui che il nome è così composto il suo nome alla prima lettera uguale alla prima lettera del nome del primo turista la seconda lettera uguale alla seconda lettera del nome del secondo turista la terza lettera uguale alla terza lettera del nome del terzo turista e così via vedi lui resterà senza stanza ma che cosa sta succedendo purtroppo ora non c'è abbastanza tempo per spiegarlo vi prometto che lo farò in un altro video ogni volta che racconto la storia dell'hotel di hilbert mi rendo conto che la nostra immaginazione viene messa a dura prova c'è un potente mezzo che i matematici utilizzano per domare l'infinito e ci riescono è il principio di induzione per induzione possiamo dimostrare tutto ciò che ha a che fare con gli infiniti numeri interi ad esempio possiamo dimostrare che 2 più 4 più 6 eccetera fino a 2n cioè che la somma di tutti i numeri interi pari fino a n è esattamente uguale ad n per n più 1 per dimostrare che questa formula sia vera per tutti gli infiniti numeri possiamo fare come hilbert nel suo hotel spostare tutti di un posto più in là prima però verifichiamo che questa formula sia vera per 1 prima le basi non si sa mai se metto 1 nella formula che succede ottengo 2 perché 1 per 1 più 1 fa 2 ci siamo il primo numero pari è proprio il numero 2 bene almeno le basi ci sono ora possiamo procedere come nell'hotel di hilbert supponiamo che tutte le stanze siano occupate cioè che la nostra formula sia vera fino al numero n ora spostiamo tutto di un numero e vediamo cosa succede scriviamo n più 1 al posto di n nella nostra formula ed otteniamo n più 1 per n più 1 più 1 che uguale ad n più 1 per n più 2 possiamo tutto di 1 anche nella somma dei numeri di prima cioè scriviamo 2 più 4 più 6 più 8 fino a 2 n più 2 per n più 1 riconosco nelle somme 2 più 4 più 6 più 8 fino a 2 n la formula n per n più 1 quindi posso scrivere n per n più 1 più 2 per n più 1 che uguale a n più 1 per n più 2 che uguale a quella che abbiamo ottenuto qui il gioco è fatto abbiamo dimostrato la validità di questa semplice formula per tutti gli infiniti numeri ma per la congettura di collatz nulla da fare forse un indizio per dimostrarla c'è magari dovremmo affrontare il problema da una prospettiva completamente diversa magari dalla prospettiva dei frattali e se al posto dei soliti numeri interi mettessimo tutti i numeri che la matematica ci offre e se usassimo i numeri reali insieme ai numeri immaginari cioè e se usassimo i numeri complessi? per saperne di più sui numeri immaginari e sui numeri complessi vi rimando al mio video sulla formula di Ulero vi metto tutti i link in descrizione dicevo e se applicassimo le due regolette ai numeri complessi? così facendo potremmo disegnare questi percorsi come abbiamo fatto all'inizio per i numeri interi ma questa volta non otterremo dei rami otterremo questo il frattale di collatz una meravigliosa figura che si ripete nella sua forma in scale diverse tutte le possibilità restano aperte l'affascinante viaggio che abbiamo fatto grazie alla congettura di collatz ci ha permesso come pochi altri problemi nella matematica di prendere coscienza del fatto che noi siamo creature finite le nostre vite sono finite la nostra mente però può spingerci ad andare oltre le apparenze può consentirci di intuire l'infinito di abbracciare in un unico pensiero in un'unica equazione l'intero universo grazie per aver visto questo video vi ricordo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale è gratis a presto